buongiorno cari amici di youtube di lucia risparmiare qui vedete dei contenitori di vetro dei bidoni di vetro i doncini di vetro bottiglie questa è una crema cosa sono sono i fervida sono io li chiamo fermentazioni medicina praticamente io ho scelto questo per voi per farvi vedere e come si può curare per tantissimi disturbi con niente po po di meno a costo zero con delle soluzioni di zucchero zucchero frutta resti vegetali oppure erbe lamenta i bacche e crearvi le vostre medicine in casa e il vostro accetto e la medicina che praticamente deve avere un anetto cosa sono i fervida praticamente io eccoci qua grazie a stefano abruzzese e alla sua collaborazione la sua tutor insomma patching una signora thailandese e lei praticamente era affetta da una malattia molto vi posso dire disastrosa insomma poteva morire insomma con questo da noi li chiamano gli autoimmuni insomma allora praticamente questa malattia cioè lucrava contro di lei contro il suo fisico e lei grazie a questi fermentati che noi troviamo cioè non so i fermentati li conosciamo tutti il lievito di beer cioè il lievito madre è un fermentato giusto il il lo yogurt il kefir il kombucha io lo chiamo così poi allora io mi sono scritta alcune alcune cosine per farvi insomma una carrellata di per non dire delle delle cavolate perché dopo magari mi posso pentire poi vengo contraddetta allora quello che vedete è un sarebbe un deposito perché l'ho già filtrato e ne metto sempre uno sopra l'altro di frutta e verdura ora vi faccio vedere come si presenta questo fermentato sopra una gelatina a una gelatina con quale si può fare ora vi faccio vedere perché ho le mani pulite mi sono lavata le mani perché vanno toccate dietro con le mani vedete questa gelatina che si forma come una protezione del fermento stesso allora non va mai usato il metallo va sempre vedete questo è un tappo di metallo allora io li ho sempre messo il coperchio la protezione dice lo fanno questi sono tappi di plastica questo già con la pellicolina di protezione questo addirittura frutta solo frutta e praticamente guardate come si presenta che ha fermentato vedete ecco si presenta così non ha muffe adesso è ancora in fase semi acetica che praticamente diventa diventa aceto passa una fase di fermentazione poi alcolica e poi acetica allora come si come si producono queste 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 fermentazioni basta avere una caraffa da un litro puoi mettere praticamente cinque litri di acqua decantata per per non utilizzare il c'è un blacco col cloro bisogna lasciarla decantare cinque litri le lasciate io ho lasciato tutto il giorno dalla mattina alla sera ok cinque litri di acqua poi un litro di acqua più 200 grammi di zucchero lo sciogliete tutto per bene dentro non so un contenitore di plastica e poi dopo lo aggiungete ai cinque litri di acqua ok che sarebbe la soluzione dolcificante e poi niente dovete mettere praticamente tre parti di frutta tipo 3 kg di della frutta che desiderate oppure 3 kg di frutta e verdura insomma allora niente quindi le proporzioni sono 3 5 1 tipo non so 3 kg di frutta 5 litri d'acqua e un litro di dolcificante più 200 grammi di zucchero allora meglio i contenitori di vetro oppure di plastica meglio questi devono essere puliti disinfettati allora mi raccomando non non roba da da dove c'è stato quelle di plastica perché la plastica assorbe e allora niente cosa hanno questi fermenti di i benefici di questi sono praticamente più a lungo questo fermento più a lungo sta fervida è un fermenta più a lungo più aumenta o aumenta creano sostanze benefiche per il nostro organismo tipo amminoacidi di enzimi vitamine conosciuto praticamente questo fervida in tutto il mondo hanno una lunga fermentazione ora sto leggendo e allora questi microrganismi benefici sono utili per chi ha la disbiose intestinale insomma perché contengono come ho detto enzimi aminoacidi acidi grassi tipo i scarti vegetali o scarti della frutta per fare si usano anche per fare la io lo uso soprattutto il concime eccoci qua per fare il concime per il mio orto per il mio fruttetto hanno molteplici usi oltre al cioè insomma curarsi noi stessi possono possiamo fare dei detergenti enzimatici tipo detergenti utilizzati per per casa per pulire il bagno per cioè bio più più bio di così non non si può sono anti calcare sono anti cioè lo potete usare nel buccato in lavatrice e lo potete utilizzare come non so per far fermentare il pane come lievito per aiutare la lievitazione e niente veniamo alla medicina perché io mi sono innamorata di questi fermenti perché ho portato la mia testimonianza più che altro perché chi soffre soprattutto perché sono così cioè al mio avviso speciali e chi soffre di dermatiti psoriasis chi ha dei problemi a livello dermatologico sono molto validi come come pratica creme come impacchi come si usano per il mal di schiena si usano per le contattore muscolare hanno un potente effetto antinfiammatorio allora tipo vi faccio vediamo ok questi si chiama gel vita non è altro che quella gelatina che voi avete visto ora non sono capace di di apriamo comunque si vede questa gelatina praticamente è stata è un composto di gel di aloe vera direttamente dalla pianta io anche la pianta dell'aloe vera olio di oliva e la gelatina questa che avete visto vi ho fatto vedere dentro qui che si è formata praticamente io grazie a questo questo composto mi sono curata una una dermatite che avevo dermatite plantare che si chiama la famosa disidrosi plantare che praticamente se diventa cronica non si cura più non si cura più poi vi farò vedere come era all'inizio e come adesso il mio piede ok e oltre a questo cioè a livello dermatologico praticamente si possono utilizzare anche a livello per chi soffre di non so uso esterno insomma agiscono sul uso interno microbiota intestinale rafforzano il sistema immunitario disintossicano è un forte cicatrizzante per le punture di insetti alle più svariati insomma a livello dermatologico più invecchiano più sono più sono efficaci insomma hanno un patrimonio genetico insomma sono pieni di vitamine di omega 3 antiossidanti acidi grassi a catena corta minerali e tutti i loro valori nutrizionali della frutta verdura piante eccetera viene potenziata dalla fermentazione ok quindi devono avere più di un anno poi cosa ho scritto qua insomma insomma anche se voi dovete farveli in casa e assumerli insomma per chi soffre di afte per chi ora dove ho scritto qui vediamo mi sono annotata alcune testimonianze ma lo trovate anche in internet tipo non so antiparassitario chi soffre di cistite chi ha dei funghi dermatomicosi stoma stitichezza ecco queste gocce di diamante che si trovano in commercio sono i vapori che si creano praticamente sul tappo quando avviene la fermentazione queste gocce vanno raccolte dentro un contenitore sterile e sono praticamente per chi soffre di congiuntivite perché chi ha la secchezza dell'oculare chi insomma ma anche c'è molte donne anche in menopausa hanno la secchezza oculare secchezza vaginale anche ecco anche a livello ginecologico vengono usate tantissimo viene usata la 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 il fervida i fervida sono praticamente io li considero che fanno parte della famiglia perché perché cioè io li uso tantissimo tantissimo io vedo le mie piante e dar giù di testa con sta roba e appena cioè si mettono io lo disluisco con l'acqua ma appena cioè lo metto nel nel naffietto insomma e poche gocce non so mezzo bicchierino e inizia a naffiare va c'è due tre giorni dopo li vedi praticamente cambiare le piante sono perfette e niente cosa vi volevo dire insomma se volete approfondire la cosa potete dare dare un'occhiata anche ai gruppi di facebook non so tipo microrganismi fervida il gruppo ecco di stefano abruzzese che grazie a lui io ho conosciuto è una persona magnifica è una persona speciale che vi può aiutare anche per sia per acquisto quindi potete contattare lui sia per l'acquisto sia per il i consigli sia per non so darvi le dosi esate perché io vi dico non sono in grado di io lo faccio l'ho fatto per uso personale quindi non non mi permetterei mai di dare né le dosi né fare il medico io lo uso per me se vi posso dare un consiglio e farvelo farvelo provare oppure io lo farò provare il 16 di ottobre quando vado a fare questa questa conferenza vicino a cesena quindi è solo per presentarlo non niente non vendo non li vendo quindi non assolutamente ve lo propongo insomma se volete approfondire chiamate stefano abruzzese e oppure mandateli dei messaggi lui è gentilissimo risponde però io la mia guarigione e le mie cioè le mie più sentite ringraziamenti a questa persona saranno per sempre e grazie ancora e spero di avervi fatto cosa gradita a un po ti potentissimo i rughe questo gel vita e speciale ragazzi chi non fa subito un buon perché cioè sa di di aceto di un po di acidulino così no quindi non non pensate che sia profumato magari lo potete potete mettere due tre gocce di lavanda ma io preferisco averlo proprio naturale quindi un caro saluto a presto con luci a risparmiare con altri consigli se vi è piaciuto il video o gli altri video mettete un mi piace e magari se volete condividerlo e vedete che non ho solo il fuoco come hobby e come passioni ho tantissime passioni pian piano vi li svellerò ciao a tutti